Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima dove a causa di un incidente al km 17 e 900 si registrano code tra il Vivio con la Panoramica e Firenzuola in direzione Roma. In A11 invece a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla FIPI lì dove a causa della viabilità esterna che non riceve si registrano code in uscita alla Strassigne e San Miniato in direzione mare. Città di Firenze sabato 16 e domenica 17 novembre per intervento con piattaforma aerea in orario 9.19 inviata avanti di vieto di transito tra Piazza Leopoldo e Via Romagnosi verso Via Celso. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!